Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. E l'Italia avrà per la prima volta una premier donna. Lei una volta che è stata qua ci ha raccontato. Pensate che in famiglia c'erano i soldi sufficienti solo per far studiare mio fratello. È cambiato il mondo. È cambiato, i vogliono si è cambiato. Però non è cambiato in meglio. Perché? Perché quando non c'erano i soldi per far studiare mio fratello, l'Italia era un paese prospero. Adesso c'è gente che si domanda se riuscirà a sfamarsi dovendo pagare le bollette del riscaldamento, per esempio. Come è successo? Quando è che abbiamo perso il bandolo? E ora arriveremo al suo libro in questo modo. Quando abbiamo perso il bandolo della matassa? Sì. Credo che sia stata un'operazione lunga, lenta, faticosa e difficile, che dura da almeno tre decenni. Fino alla fine degli anni 80, all'inizio, la metà degli anni 90, ancora non c'erano problemi di questo genere. Poi è cominciato il degrado, ma a mio avviso, un mio amico siciliano mi diceva ricordati che il pesce puzza sempre dalla testa. A mio avviso è che i nostri punti di riferimento, dei cittadini, punti di riferimento di noi cittadini, sono stati sempre meno preparati per assolvere il compito che gli è stato assegnato, cioè quello di governare la res pubblica, governare la nostra repubblica. Quando sei in un'azienda e non sai fare il tuo lavoro, ti licenziano. Quando sei in Parlamento e non sai fare il tuo lavoro, ti promuovono. Ti rieleggono quantomeno. O ti rieleggono. Questo è. Ma ha fiducia in una premier donna o è come averne uno uomo? Bisogna vedere cosa farà. Lei come la pensa? Io penso che dovremmo stare alla finestra e vedere che cosa succede, non lo so. Ma che donna è un di più? Ma lei si presenta come una barricadera e dopodiché non è stupida, anzi credo che sia molto intelligente. Ho il sospetto che abbia una frangia di seguaci non molto raccomandabili, però voglio essere fiduciosa. Così bisogna essere. Allora, di cosa parla Mercanti di Sogni? Ci racconta la storia per quello che si può. E' una storia bellissima. E' una storia che comincia negli anni 50, quando c'era la borsa gridata. Comprovendo i tabelloni luminosi, i segni che facevano, i telefoni che squillavano. C'erano centinaia di telefoni in questa sala delle grida. Si smarrisce una bambina di quattro anni che era andata a cercare il suo papà. E da qui prende l'avvio il racconto perché un giovane impiegato della borsa vede questa bambina smarrita, la raccoglie in lacrime e la aiuta a ritrovare il suo papà. E quel giovane che ha 20 anni, 21 anni, per la prima volta prendendo in braccio questa creatura sente che un giorno quando si sposerà vorrà una bambina così, nasce in lui il bisogno di paternità. E questa bambina non lo dice a nessuno ma quel giorno nel suo cuore nasce qualcosa. E lei si innamora di questo giovane e si ripromette che un giorno lui sarà il compagno della sua vita. E questo personaggio, che si chiama Tilli, percorre tutta questa storia che si divide tra il mondo della borsa, dell'economia, gli stage negli Stati Uniti, le avventure. Ma lui è il banchiere di cui parlava prima? Lui è il broker. Lui è il broker. Cercava, è scappata dall'asilo per raggiungere il suo papà. Ma si incontrano? Il broker e lei si incontrano nel futuro? Ma certo! Lui, questa Tilli e il protagonista del mio romanzo, non si perderanno mai di vista. Soltanto che mentre lui si innamorerà di altre donne, questa bambina via via che cresce diventa sempre più gelosa di lui fino al giorno in cui lui si accorgerà che lei è una donna. È diventata improvvisamente una donna bellissima e i due si ameranno per sempre e vissero felici e contenti. Ecco perché sono dei successi i romanzi, diceva Casati Modigliano, il mercante dei sogni. Grazie davvero per essere stato con voi. Bocca al lupo e complimenti per il suo lavoro.